Al Ministro, permesso che sono molto contento che sia qui oggi a discutere di questa legge e che spero che in realtà questa interlocuzione, che purtroppo non sia avuta in Commissione, già che abbiamo votato gli emendamenti in scarso un'ora, con nessuno intervento da parte del Governo e nessuno probabilmente da parte del relatore, spero nella sua presenza anche più tardi, proprio perché serve un dibattito, una discussione in alcune fattispecie penali che noi vorremmo inserire o modificare, un dibattito che si basi non sul politico ma sul tecnico, perché quando si parla di norme penali dobbiamo sempre andare a identificare queste norme penali come un risultato politico, perché queste norme penali poi vanno interpretate, servono a interprete per sanzionare certi comportamenti e quindi anche la tecnica legislativa è fondamentale, soprattutto in campo penale. Presidente, questo emendamento richiama l'attenzione nostra su una serie di provvedimenti che dovrebbero essere assunti per prevenire la corruzione. Signor Ministro, non potrà negare che l'articolo 1 del capo 1 della proposta di legge attiene a come colpire i concussi, i corrotti, cioè si riferisce a reati consumati, consumati, ma di reati consumati ne abbiamo tanti di previsioni di fattispecie dalle parti nostre. Quello che manca, e non lo dico soltanto io, quello che manca è un'adeguata azione per la prevenzione della corruzione e voglio dire alla collega Santelli, noi voteremo a favore di questo emendamento, però guardi, è un emendamento che sostanzialmente riassume tutte le iniziative, anche legislative e amministrative, che nel corso degli anni, da tangentopoli in poi, sono state assunte o proposte, per cui molto spesso non sono le norme che difettano, ma è semmai la gestione di quelle norme da parte della pubblica amministrazione dei soggetti interessati. Faccio un esempio pratico. Rileggo soltanto alcuni passaggi del suo emendamento. Razionalizzazione del quadro normativo nelle materie degli appalti pubblici e delle concessioni, al fine di conseguire un maggior livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti. Se mal non ricordo, per esempio, in questa aula abbiamo deliberato la proroga ad libitum a trattativa privata di alcune concessioni, per dirne una, mentre la normativa presuppone che si vada a gara. Ma questa materia degli appalti pubblici è la materia sulla quale il Parlamento fu immediatamente impegnato a fare la famosa legge Merloni, e poi la seconda legge, la terza Merloni, la quarta Merloni, con tutti i regolamenti connessi. Ovviamente non hanno poi sufficientemente funzionato. Bisogna chiedersi perché. Oppure, non so, per dirne una, bisogna che il Governo si adoperi per un forte contenimento delle variazioni processuali, progettuali in corso d'opera, anche attraverso una valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici ed una più forte responsabilizzazione dei progettisti e dei direttori dei lavori. Questo è già scritto sostanzialmente nella legislazione attuale in materia di lavori pubblici. E allora come mai bisogna interrogarsi la corruzione di Laga, proprio in questo settore? E potrei, ripeto, continuare a leggere il suo emendamento che è corposo e che riassume tutte le problematiche che sono state individuate di criticità per la prevenzione. Ora, questo emendamento ha questo pregio, ma è un emendamento che sostanzialmente capovolge la proposta di legge del Governo. Per cui siamo, come dire, imbarazzati. Nel senso che l'accogliamo proprio come una cartina di tornasore di quello che si potrebbe fare e che il Governo non fa. Purtroppo la situazione è la seguente. Mentre l'articolo 1, come le ho già detto prima, non fa altro che aumentare semplicemente le pene, al di là di altre norme che pur importanti ci sono. Grazie, onorevole Sanni Candro. Onorevole Ferraresi, a titolo personale. Caro Ministro, approvatevi questa legge anticorruzione entro le elezioni regionali, portate a casa questo ennesimo spot, ma non veniteci a raccontare che questa legge sia efficace o sia assolutamente non emendabile, perché noi non ci crediamo. Andatelo a raccontare ai giornalisti, ai vostri elettori, che magari ogni tanto vi credono, ma ci faccia il piacere, perché mentirebbe in prima battuta a se stesso, perché lei lo sa benissimo che questa legge assolutamente è uno stravolgimento del DDL Grasso, che è stato due anni al Senato, che si poteva fare tanto meglio soprattutto sulla prevenzione e tanto meglio anche soprattutto sulle parole usate, perché, vede, Ministro, in Commissione hanno ridicolizzato le parole usate dal Governo su questo testo. Il Professor Padovani ha usato addirittura la parola giocolieri. Se vogliamo fare il giocoliere, usando e tirando in aria le palle, possiamo farlo, ma non è il ruolo del legislatore, quindi non ce la venga a raccontare.